bene benvenuti benvenuta elena questa è la sessione di romina benvenuti elena se già vuoi conto ma se sei già connessa a romina dimmelo tu connessa già ti dà l'autorizzazione romina se facciamo cose nuove creiamo una d'eterno intorno a tutta questa sessione a noi le nostre case tua la mia teme romina suo figlio è sotto la loro casa non c'è nessuna paura non c'è nessun problema non c'è nessun pericolo ma lo facciamo real vampires e le persone che si credono dei vampiri il personaggio scuro maestro scuro chiamiamolo chiamiamo i vari week can che hanno partecipato a questa storia chiamiamo tutti questi di questo gruppo internet di vampiri vediamo un po di chi si tratta facciamo entrare anche il libro bibbia satanica con i suoi piedini invito romina a calmarsi che non c'è nessun problema non c'è nessun pericolo e a tranquilla sono solo fregnaccia alla fine a cui si dà un sacco di importanza ma sono e restano fregnacce fai anche venire i creatori e autori di true bloods una serie ila molto molto incentrata su questi argomenti al di là della smisurata produzione cinematografica televisiva editoriale sui vampiri dimmi cosa vedi allora di umani che si credono vampiri sono interferiti sono interferiti da queste entità che fanno capo a satana direttamente quando c'è questa iniziazione con sangue di un'altra persona attraverso questa cosa l'entità è come se riuscisse a mettere non è un vero e proprio impianto ma è come se riuscisse a mettere l'inter l'informazione di sé entità dentro a queste gocce e quindi poi scorrono il corpo di queste persone queste informazioni di satana sarà mai stata una chiamiamolo è arrivato dietro alla bibbia satanica come se mettendo davanti la bibbia lui volesse spaventarci cosa contiene la bibbia satanica le parole che creano dei canali energetici diretti con lui è stata una come lo vedi a noi appare vedo più che altro la struttura esterna e poi c'è il contorno è a due specie di di corna che provano anche di fianco non so come dire una specie di casco sopra che collega le due con secondo universo se amico di mollok più importante mollok satana mollok quindi già povero satana è stato declassificato non è categoria non è una più più come gli elettrodomestici c'è un b povero povero b cosa dice che ha fatto che è un povero b che non ha una certificazione energetica che anche sia un chissà cosa da mollo che è una più più anche forse tre più lui è un b i di blad ok secondo universo e come fa a venire di qua con le gocce di sangue dei dei riti dei vampiri reali come lo vedi saltano a timore di questa sessione si è messo dietro certo si è messo dietro appunto a questo libro chiamata bibbia satanica perché un po di venti e ucce e la l'espressione del viso con noi è normale c'è non è che a quell'espressione che fa con solito con tutti cattiva così di terrore io voglio questa bibbia solana secondo me una bibbia satanica deve trovare un posto in cui stare non può così essere buttata qua e là no con un vogliamo creare un cocoon per la bibbia satanica bene crema un bella d'eternum platinum a più 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 mettiamo la bibbia satanica dimmi già prima quando lui ha messo la bibbia davanti a sé e noi siamo di coi e te c'erano io e te così è come se le parole si stessero già dissolvendo perché con la nostra vibrazione già stava facendo dissolvere tutte le parole delle pagine questa bibbia adesso poi la massa dentro no aspetta la mette lui dentro ora mette dentro lui o ci finisce lui ce lo metto io nella d'eternum ok come se lo avesse lanciato dall'alto perché sa che se lo tocca ok ok c'è satana quindi cosa fa il personaggio scuro è venuto l'abbiamo chiamato sì sì c'è i vari week and sono venuti sì che è dispiaciuto se c'è qualcuno dispiaciuto del fatto che non c'è più la bibbia satanica un po tutti c'è c'è chi è dispiaciuto consapevolmente a chi è come se sentisse mancare qualcosa senza essere consapevole ok per par condicio chiamiamo qualcuno chi viene che ci porta la bibbia non satanica la bibbia e per par condicio lo mettiamo anche quella nel in una d'eternum un posto pieno di vibrazione altissima quindi che male fa vibrazione altissima tutte vibrazione tutti tendiamo la vibrazione altissima più alta più alta più alta più torniamo la sorgente gioco è finito fine spiegato tutto finito chi si presenta con la bibbia in mano a del pio bene metterlo vicino a satana conoscono se hanno una mano mano nella mano a secondo reti la mano a strati la mano secondo invece la teoria padre pio combattuto satana che bella sessione oggi che ti dicevo l'altro giorno che ci dovevamo divertire poi sangue ovunque e mi che fa padre pio la molla la bibbia o se la tiene il vecchietto con le sue belle manine ma faceva finta di essere distratto dando la mano a satana come se volesse farci credere che ad essere impegnato fuori che perdita di tempo che manica di buffoni dai dai via bibbia nella d'eternum basta perdo tempo col vecchio incazzare il vecchio di satana cioè messa che c'è la rabbia risolve come l'altro se due robe che non servono in meno via semplifichiamo come quando si facevano le disequazioni a scuola no bisogna semplificare arrivare un numero x uguale a 3 dobbiamo arrivare a x uguale a 3 oggi è questo quello che dobbiamo fare siamo pieni di minchiate dobbiamo arrivare alla minchiata zero e minchiate sono finite finalmente si parla di evoluzione no tutti siamo qui per evolverci dei delle bibbie sataniche non ce ne facciamo un cazzo che ti ho detto un po male così magari il youtube non lo becca che lo sito come vedi romina adesso adesso alla prima arrivata era lei lei si sentiva se stessa le pensava di sentirsi se stessa con tutto un carico dietro vibrazionale un carico e dietro aveva attaccata delle specie di ali nere però attaccate a lei e diranno con le bretelle no era come se fosse una grossa ala circolare ok con l'appunto un po in alto però tutta intera ma come se fosse una goccia però ad ali a ok un'ala unica goccia attaccata dietro da in giù ovviamente in su la punta in sotto in su ok e che modulare se copriva copriva oltre la testa no quindi andava oltre come altezza e quello era un impianto si era un grosso impianto che aveva attaccato dove c'era dentro tutto il carico di tutto di tutti queste persone con cui tutte le persone con cui ho avuto a che fare come se ci fosse un pezzo di tutte quelle persone lì e e dietro era come che questo carico qua ed era come se fosse un monitor terra che all'uomo scuro avevamo detto il personaggio scuro sono già scuro come se fosse questo fosse un monitor per lui esatto e poi questo era collegato a satana abbiamo una parentesi andiamo subito nell'emozionale di romina che è terrorizzata in questo momento pugni sotto il mento fronte corrucciata subito un emozionale cosa vedi come se sono norme palla nera e un'ansia dei ricordi dei momenti del sì dei momenti che ha passato cioè come se mentre io spiego la scena lei rivivesse quei momenti la e questo è il terrore che vedo nella sua pancia va bene terrore ansia paura scarsa fiducia in se stessa se c'è tristezza solitudine tutto quello che vibra basso nell'emozionale adesso lei apre un portale per buttare vento ha buttato proprio a badilate combate a palate ce n'è a palate se c'è ancora qualcosa stanno ok ha buttato e anche badire la pala ha chiuso ok insegna le falle vedere come tu crei una d'eterno e quando lei l'ha visto lo ne crea uno lo mette qui subito una fonte di vibrazione eterna ad altissima frequenza che lei non crea privando seni privandosi della frequenza ma che era dal nulla in quanto creatrice lei la creatrice non la finzione satana la finzione personaggio scuro lei è quella che crea questo è quello che dimostra la creazione della d'eterno poi già che c'è mette delle altre frequenze nel suo emozionale che ha bisogno di essere ricolmato delle giuste frequenze fatto se anche personaggio scuro cosa fa chi è come lo vedi uomo donna dovrebbe essere uomo professione cosa c'è di sotto magari a uomo uomo ok preferito ma se c'è un po demo uomo demone una specie di o mano umano ed è ma noi vedremo con il consiglio è come se si spostasse c'è come se fosse a suo compito fosse quello di interferire sempre romina ok quindi prima era in quell'uomo lì e adesso c'è in eterico lo vediamo ancora lì perché diciamo che il personaggio principale con cui con cui viene interferita romina ok però poi lei ha parlato di una donna dopo dopo poco tempo fa una cosa che ha fatto una cosa energetica io li ho visto quell'energia demoniaca dentro questa donna la stessa che si è spostata c'è la sua amica serve l'amica del personaggio scuro no 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 quella un'altra e auto energetica ma la reiki si esatto reiki su man invece l'amica la chiamiamo del personaggio scuro l'amica era vedere come se lui fosse sottomesso da lei e lei proprio come se lui se succube di lei e quindi tramite romina aveva trovato tipo uno spiraglio di uscita ok ma a livello energetico questa donna se ne accorta c'è gobbo si padrona così c'era provato a sfuggire con domina da questa cosa ma schiavizzando romina quindi c'è uno schiavo che cerca di diventare il padrone di qualche altro schiavo è francamente di pettinare queste bambole oggi non mi va molto stringi stringi questi cosa sono uomini o no sono 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 uomini che hanno perso praticamente costruita la ps sono portatori di demoni c'è dentro il corpo ok hanno detto romina che anche lei è una vampira che ha delle capacità e così via è vero che ha le capacità quelle sono sue sono le capacità mediane che che potenzialmente tutti potremmo avere ma sicuramente vampiro non è una roba buona c'è il ma certo la parte utile buona una fila è sensata ma lei è uno serio no no ok perché lei sentiva il sapore del sangue non metallico ma dolce causa tutelica tramite le sue capacità mediane che con le interferenze le cambiavano il costo ok perché lei sente l'impronta energetica degli altri nei suoi chakra questa è la sua sensibilità sensibilità senti a seconda riuscì c'è fin da piccola lei a seconda della vibrazione dall'altro sa tradurlo in come c'era in fronte energetica quindi a livello emotivo sa se uno sta bene sta male se carico scarico è una cosa che si porta da altre vite l'aveva già imparata quindi qui si ricordava bene apriamo la tenda del palcoscenico e vediamole queste altre vite in cui lei sapeva fare queste cose una due non di più no era la vedo mi viene il nome di come si chiama autodeskrivo era un uomo paesi arabi quindi aveva quel vestito tipico no anche con il turbante la tunica con una specie di chiusura sul davanti verticale atti diciamo hanno tubano turbante in testa e quelle quei pantaloni larghi o tipo alladino era vestita no ok è un uomo uomo che riusciva anche a lievitare me la vedo per strada e questa è una è un'altra è la tira prestigiatore mago i primi del novecento ok in inghilterra va bene vibrazione piromina 89 miliardi percentuale di consapevolezza 128 psp è una cosa curiosa 59 41 vite precedenti 2827 cervello questo momento che lei centrata ed è collegata a me la sento collegata direttamente a me in questo istante perché tipo tre secondi fa non era così collegata adesso è a 11,7 ma di solito non vive così 9,1 ok collegata a te e adesso la senti diversa per via della pulizia emozionale sì sì molto leggera la sento molto rilassata infatti la ps ha sparato 79 79 79 sparando va bene queste vite precedenti sono collegate alle sue capacità medianiche che che avendo la possibilità di viaggiare sull'11,7 non è proprio lontana dal dal poter sviluppare anche nella quotidianità no assolutamente infatti la consapevolezza che è un po basse quindi lei non lo vede questa potenzialità quali sono tra le tante quelle più nelle sue corde diciamo allora lei può agire tantissimo modulando le vibrazioni di chi sue sue e separarle dagli altri c'è potrebbe obiettivamente sentire quelle degli altri separate dalle sue e questo potrebbe essere la sua capacità quasi renderla prof una professione però non non reiki roba così perché sappiamo che poi si aprono dei canali però proprio a livello terapeutico una cosa particolare che potrebbe fare lei no 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 non mettere le mani sulle persone ma allora lei legge le sue vibrazioni imparare a leggere quelle degli altri e in base alla vibrazioni un po quasi come non so come chiamarlo però potrebbe fare una consulente che a base alle vibrazioni può dare dei consigli per migliorare la vita ecco una cosa così mi è venuta vediamo se ci sono degli impianti mentre ti faccio questo breve elenco di cause esoteriche di questioni fisiche ipertiroidismo che la invalidata non poco impedendole anche di lavorare le stelle questa sensazione di dover correre non essere in grado di correre per scappare c'è vedo proprio in eterico vedo allora la tiroide produce degli ormoni che regolano molte cose del metabolismo ok quindi anche la capacità di essere reattivi proprio livello metabolico quindi vedo che lei come se si guarda alle spalle deve correre quindi questo messaggio arriva il cervello il cervello fa aumentare l'attività della tiroide ok ma lei si sente in corsa sempre quindi l'attività della tiroide aumenta sempre di più e fino a dare proprio questi sintomi fortissimi formicoli ai piedi quelli sono gli impianti quelli specie di mettono delle specie di scarpe quando quando fanno le abduction mettono delle specie di rivestimenti ai piedi per separare i piedi dal corpo a livello energetico e lei lo percepisce percepisce anche durante prima dopo infiammazione alla coccige impianto spasmi alle gambe no è proprio più quest'idea invece quello anche quello è motivo no di dover correre e quindi si affatica proprio come se il cervello corresse veramente l'energetico corre come se fisico corresse veramente palpitazione all'addome sempre quello emicrania l'impianto all'impianto sull'emisfero destro e mezzo più o meno e stanchezza conica diciamo l'impulso che gli viene dato da questo impianto mentale vedo come se ci fosse una piccola sfera e mezzo poi una rete in tutta la testa più o meno ok e ogni tanto chi viene dato questo impulso che proprio la spossa da chi la necessità mentale adesso è di livello 5 vediamole tutte già che ci siamo c'è solo questo c'è livello 5 c'è una livello 3 livello 5 quella che fa rimanere l'apatia nelle mobilità nella depressione che proprio anche a livello fisico appunto dei pensieri di non più voglia di reagire come se non ci come mettesse in testa dei pensieri come se non ci fosse più niente per cui vale la pena attivarsi lavorare avere una vita che lavorativa professionale e fisicamente appunto queste si impulsi che fanno a spostare proprio tutto il corpo e la 3 la 3 quella che le mette i pensieri come se il resto del mondo se fossero tutti da aiutare tutti i poverini non so come dire come se non riuscisse a vedere come se lei dovesse collegarsi con tutti perché hanno bisogno poverini non so come dire io sono queste doti devo usarle siccome se si sentisse il dovere in dovere di condividerle questo discorso dei doni no se questa parola che me irrita i doni o i miei doni o dei doni non so perché nessuno rigola niente nessuno ma poi no vabbè ma il discorso è che hanno dei doni io dei doni tu non hai dei doni così così insomma tutti abbiamo dei doni sono capacità mediani che vanno sviluppate se sono capacità che vanno sviluppate le abbiamo tutti no magari potrebbe essere interessante più che avere dei doni e usarli con gli altri è capire come si sono ottenuti e insegnare agli altri in modo di svilupparli però capisco che può essere difficile già che ci siamo vediamo l'entità in più oltre a quello che abbiamo visto prima che è preponderante come se quando satana riesce a incastrare persone come romina si lasciano trascinare dentro questa cosa no è come se prendessero tutto lo spazio delle interferenze eteriche quasi no perché poi c'è interferenza principale della persona e poi in secondo piano vedo come se ci fossero degli degli aiutanti che stanno in stand by che nel caso in cui la persona inizia a staccarsi questi aiutanti arrivano e interferiscono anche loro per tenerla proprio come se dovessero tenerla lino quindi come se riuscissero a prendere tutto lo spazio delle interferenze esoteriche poi vedo un piccolo falco in forme che quasi qui ma questi aiutanti di che natura sono primo secondo universo aiutanti di satana sarà seconda se secondo sempre secondo si gli agitanti di babbo natale oggi sono gli aiutanti di satana ok basta e dl ci sono due per l'inizio di livello 5 una penetra di livello 3 vedete voi e dl sono gli angeli gli angeli insieme a satana che collaborano nello stesso progetto fatevi due conti progetto di nome dai mondi dai mondi perché mi è arrivata mentre è arrivata l'immagine angeli demoli e poi quella roba che è arrivata prima della sessione come un così simbolo perduto il diad diamond è come se fosse formato da tutte le facce quindi angeli demoni ed è il simbolo perduto mica senso simbolo prodotto cos'è simbolo perduto allora è come se dovessero il progetto grande il grande progetto è quello di prova dietro come monopolizzare le interferenze di interferenze simbolo perduto adesso mi è arrivato ho visto adesso perché sta il secondo universo non sa più come fare per rimanere aggrappato qua e quindi che si sta perdendo questa cosa quindi è come se cercassero di moni di monopolizzare tutta l'interferenza di tutti qua nel primo universo e soprattutto nella matrix della terra per riportare tutte tutte le vibrazioni basse alla frequenza delle dei demoni ok quindi come se si fossero divisi il campo tra malloc satana e lucifero e cercassero di monopolizzare tutti quindi a volte cercano di interferire anche tra tramite altre entità può essere un amante una mantide no spesso viene la mantide che la vedo spesso legata alla alle religioni soprattutto quella cristiana e poi alla fine arriva a collegarsi a a lucifero e quindi poi secondo universo ed è come se proprio vesti che da lì dal secondo universo pian piano come se si diffonde sei la lava quando pian piano scende prende tutto lo volete prendere tutto lo spazio quindi diciamo che il loro progetto da e mond adesso è quello di riprovare a prendersi siccome sono stati eliminati e quindi non ha funzionato loro prima l'azione che chiama lucifero e chiediamogli se anche lui e la sua bibbia luciferina tutte le bibbie o nessuna se la molla no no adesso no adesso no adesso no allora io perché non ho tempo da perdere io la prendo dalle mani e se non la molla deve stare un po attento la metto nella d'eterno uno uguali identi quale altre due o tutte le bibbie stanno nel loro sacchettino o nessuno ok ma che moloca una sua boi bibbia vediamo il ranocchietto la bibbia proprio bibbia bibbia a quindi la bibbia di satana e di satana la bibbia bibbia e di moloch con dietro se vecchio vecchio di pietralcina e lucifero c'è la sua bibbia luciferina se che la vedo legata così mi è arrivata diretta e proprio come se fossero le istruzioni vedo tipo durante gli esorcismi no ma che bello quindi tutti gli esercisti adesso saranno lì senza bibbia s'attivata ce l'avranno lì disattivata che non serve niente facendono il cammino con quella bibbia lì va bene torniamo ai problemi fisici c'è romina che dice che da qualche secco qualche minuto a dolore al coccige alla ps la ps adesso che attivatissima col cervello così alto in questo momento collegato a noi tolta tutta quella cosa quelle vibrazioni pesanti a ps sta cercando di inglobare il schiava l'impianto per cercare di neutralizzarlo e dissolverlo quindi sto lavorando a bella lasciamo lavorare se in causa della depressione e chi e chi e chi e chi e con il colpo ho già messo prima non te l'ho detto ma non ti dico se ti dico cosa visto dopo anche adesso si vuole prima ho già fatto sto lavoro ne stavano arrivando come il solito tre quindi li ho messi poi nel portale dell'oblio e uno dei tre aveva con la maschera gli ero strappata di fatta faccia dalla faccia strappata così è rimasto proprio soffocava stava soffocando perché quale vibrazione sono troppo alte quindi qualcuno parte già con protezioni se tecnologiche vabbè le vibrazioni adesso sono più alte di qualunque protezione tecnologica quindi possono pure arrivare che le loro maschere si pietre si polverizzano sono tornati altri tre adesso che c'era lei che li aveva già mandati ha già mandati a sé bene depressione causa esoterica l'entità di livello 5 non ce l'ho con te ce l'ho con questi onzi orticaria è come se lei sentisse qualcosa dall'esterno che le sta addosso le stava per poi adesso tagliamo tutto però proprio come se ci fosse qualcosa così ok lei lo sente lo comunica alla ps la ps come se spingesse verso l'esterno dalla pelle e quindi questa reazione come se facendo le grattare tutto la ps la vedesse come una soluzione per mandare via queste cose si sono attaccate staccarle denti infetti ma vedo un po questo altarenare nella vita di una cosa più emotiva altarenare nella vita di potersi procurare sostentamento autonomamente ogni tanto va un po su e giù una volta è più serena volte meno incubi sanguinari pieni di oro e sangue mostri e allora le abduction che le hanno sempre fatto e in queste abduction vedo proprio in questi casi no con un rio di empire mentre fanno le abduction e come se gli mandassero proprio nella mente quest'idea che questa energia di il punto del sangue di mostri di roba sanguinaria sangue sempre sangue 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 poi tutta la parte di terrore ecco no come diceva prima ferina tutta quella parte lì proprio durante le abduction mandavano queste informazioni nel cervello paura della morte è come se lei mettere che vedo come se lei temesse nel momento in cui muore si vedesse davanti tutti questi demoni queste nox e si deve il personaggio scuro le aveva messo qualcosa nella kundalini c'è un impianto lì si era attaccato con questa grossa la nera e si era attaccato come se si fosse agganciato da lì e da su e poi sopra ma lì era a livello energetico mandando l'energia da lì la teneva agganciata a livello energetico cioè come se l'informazione che arrivava lei era in eterico quindi diciamo più una cosa biologica antica ancestrale messaggio che ti mando che solo io posso inseminarti so come dire no e quindi la teneva agganciata di l'energetico mandava gli impulsi proprio causa esoterica della sensazione di essere seguita sì perché questa cosa che aveva era come se fosse uno schermo del non mi viene mai l'uomo oscuro lì è un altro scuro personaggio scuro ma se fosse uno schermo quindi lui la teneva sempre d'occhio in eterico e quindi probabilmente questa cosa qua ok prima di analizzare l'ultima volta le bevute reciproche le trincate di sangue che adesso nemmeno vedere cause esoterica del figlio freddo nei suoi confronti non capisce tanto come lei è molto onesta molto se stessa con con tutte le persone di care e vicine a lei suo figlio tema un po' questa tutta questa parte un po così sensitiva no da questa parte che va oltre le dimensioni che si vedono perché non lo capisce non lo comprende quindi un po un po lo teme non sa come va bene i due figli quello vicino e quello lontano alla madre sono invitati nel cinema a vedere tutta la sessione tutto quello che è stato visto l'hanno già visto velocemente e li lasciamo lì invitiamo i disincarnati la nonna che lei non ha mai conosciuto la mamma e tutti quelli che si presentano con con concomitante apertura del portale auro di tutte le sue generazioni anche gente che non conosce chiama anche le nuove vittime di cinivac dall'ultima volta oggi così rospetto lo facciamo morire di fame e vediamo un po che bordello si presenta di gente allora nonna e mamma non saranno quale con cui interagiamo sono che se ok poi parenti compresi nonna e mamma ma quanti oltre alla nonna mamma 73 ok 75 e vittime di cinivac 12.480 tutto il mondo ok portale aureo tutti tranne nonne mamma vanno messaggio di nonna se vuole lasciarlo e di mamma ovviamente chi non vuole andare non va ovviamente sottinteso ma solitamente finora appena lo apriamo vengono talmente attirati da questa sensi risolutrice che vanno tutti risultati a chi vuole andare però non si presentano affatti quindi se si sono presentati 73 parenti di romina sono già lì che vogliono andare inutile richiedergli all'ultimo ulteriormente allora la nonna vedo che è più grande più alta della mamma e l'abbraccia da dietro non le metti tipo le mani sulle spalle e poi dice romina che non si deve spaventare non si deve preoccupare le capacità sono tutte sue su tutte capacità medianiche che lei ha da altre vite che si ricorda che sono solo la sua forza sono la sua grande forza con la quale può imparare a essere centrata e a proteggersi dalle interferenze di non preoccuparsi e che può anche trasmetterle a suo figlio quello che vedo io è che l'ho già visto prima che il figlio e la fiamma della madre del suo no non ho capito scusami il figlio di romina è la fiamma di romina madre figlio sono fiamme adesso adesso si beh abbracciatevi scusa cioè minimo eccoli che si abbracciano tanto non vedremo niente nessuno va bene no vabbè sono senza parole fiamme vedo che come se lei sa lui sa non lo so io vedo che loro sanno uno dell'altro sanno cosa vuole uno l'altro in eterico io vedo che uno pensa e l'altro fa uno pensa e l'altro fa come dire proprio vedo questo incastro quindi quando abbiamo chiamato la ps di romina abbiamo chiamato anche la ps del figlio che qui con lei questo ovviamente figlio questo 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 freddo che era chiaro che non fosse no 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 quindi il parziale miglioramento del figlio è legato alla non ancora effettuata sessione della madre sì e soprattutto era molto evidente il fatto che lei è molto che non riesce a farle cose non riesce a può aversi è legata alla staticità del figlio quindi sono collegati nella loro evoluzione personale si devono proprio muovere all'unisono perché così diventano uno c'è a livello esponenziale ok quindi c'è se uno sta fermo l'altro si deve muovere e così si muove anche l'altro questa è la cosa più importante di tutta la sessione prendetelo in considerazione lavorateci veramente tanto perché dei vampiri ci possiamo anche diciamo non liberarci brava che è sempre venuta a modo che non dicessi di volgari assurdo ero già lì pronto con scene di acqua di risciacqui ok bene ho perso il filo ah sì la nonna la nonna e la mamma la nonna e materna quindi questa è veramente la mamma è veramente sua figlia è questo non sapevamo ma ne ha visto visto in rovina sì ok ok che cosa vogliono dire cosa vuole dire la madre che pare la trattasse non benissimo è come se la madre si sentisse figlia di romina come se si sentisse fuori dal ruolo e quindi non c'è non sapeva come fare io in eterico la vedo vedo più grande romina rispetto alla mamma per quello che la nonna le teneva le braccia sopra no proprio come se lei non riusciva a fare con loro lì perché non solo sentiva si sentiva più piccola di romina e quindi ha sempre fatto grossa fatica a farlo per questo chiede scusa perché se l'ha visto adesso se ne è resa conto ora sono rimaste solo loro due se le mandiamo nel portale aurea e salutiamo ok lo chiudiamo se dimmi solo brevemente cosa fanno cosa fanno curicini che arrivano da romina cosa fanno il personaggio scuro che ti piace tanto i vari wiccan gli autori di true blood tutti questi vai personaggi tutti i vampiri eccetera cosa hanno fatto sono rimasti vogliono andare al cinema no no stessero allontanando quasi come della serie avesse non vedono che noi ci allontaniamo magari non ci mandano beh cosa vuole fare romina li vuole mandare certo allora li mandiamo andando in modo classico al cluster vediamo tutti vai dimmi è già lì è già lì e dentro e c'erano tipo come delle pergamene però non so perché mi viene da dire che erano giapponesi no delle pergamene ma sì ecco più giapponese no quindi ogni vita era una pergamena più lungo più corto a seconda dei contratti e appena lei è entrata ha preso tutto e con un gesto così tipo come se avesse una bacchetta ha mischiato tutto diventa tutto un vortice che poi ha mandato tutto dentro al portale definitivo che poi ha chiuso un colare un colore blu viola tutto dentro il contratto che la sede la legava al personaggio scuro ai vampiri reali e quant'altro tutto io niente se sì ok safari ad eternum le nasce a cui uno bello gigantesco e allora creatura d'eternum e poi con lavoro con la bocca aperto la bocca come se uscisse un suono fortissimo che entra nella d'eternum e rende tutto molto più potente proprio con una potenza che vibra tutto si spaventa c'è addirittura l'entità si spaventano e vibrano c'è tutte le entità come se avesse mandato una vibrazione di aspettami nella parola di vibrazione di suono si sonora il timore ok per per mandare il team come se tutte le entità avvertimento ma non c'è nessun avvertimento da mandare c'è una d'eternum fine l'entità non si possono avvicinare anche se vogliono i vampiri satana i tre scemi lì del secondo universo ok qui può qua flick flock flock chic cioc cioc ok andiamo alla all'avatar vediamo se c'è come fatto totale definitivo via e dato eterno ma anche qua per tutto definitivo ok tutto dentro tutta la data chiusa benissimo lei ha già un ava una d'eternum nel corpo emozionale se ne mette uno e se ne crea uno nel corpo fisico dimmi dove lo mette a nea tiroide che dice la parte che mi dà più fastidia mentale coppa mentale sull'occipite corso eterico e fa dove le mette nelle due panni delle macre corrispondenza delle panni delle mani mai gran maestro di ad eternum subliminare subliminare uno in casa molto grande che prende tutta la casa se vedo allora dopo che l'ha messo nel subliminale allora anche il figlio iniziato a fare a fare la stessa cosa che fa lei infatti lo aspettavo senza dire ba il figlio iniziato ok da sapevano che erano fiamme loro due nel minetterico prima che facessero tutte le sessione c'era tipo un come se un uomo del tempo avesse messo un muro ma ha fatto uno iniziato a togliere il pezzo adesso si vedeva se sono visti perfettamente perché è vero che madre figlio fiamme non possono avere un tipo di rapporto insieme di un certo tipo come dire uomo donna la coppia uomo uomo donna donna è però è anche vero che che in qualche modo l'uomo del tempo non li può separare per forza di cose rarissimi casi in cui viene tolto il figlio alla madre ma insomma abbastanza difficile magari ci sono anche stati non lo sappiamo quindi l'uomo agito su su cosa sul mentale sì esatto diciamo sul mentale mai e poi mai sarebbe venuto in mente invece il figlio ha già fatto una sessione sui games mi sembra videogame a dipendenza da videogame adesso il titolo non lo ricordo ma è stata come no neanche io life game life game e la madre è arrivata a valentica qualche settimana dopo come era l'entità mentale collettiva adesso che mi sono nuovi stronzi in arrivo con nuovo ecco perfetto cosa fanno madre figlia figlio i capelli troppo lunghi stanno sono abbracciati poi si guardano e si stanno godendo stanno facendo stanno provando la loro forza assieme no quindi vedo che mandano vibrazioni vedono l'effetto poi le rimandano vedo proprio la ps con i loro colpi che fa questa cosa sempre più grande e si stanno godendo la loro capacità di fare questa cosa c'è ancora qualcuno di quelli che abbiamo visto prima e ce ne frega ancora qualcosa assolutamente da aprire i reali we can i tre scemi del secondo universo impianti abduction entità mentali eteriche l'aquilotto gli aiutanti di babbo natale e dei demoni e dl diamond simbolo perduto ci sono solo madre figlio due fiamme messaggio finale di romina a se stessa e contemporaneamente anche al figlio ma allora lavora sulle vibrazioni tu le riconosci molto bene è come se dovessi catalogarle per poi usarle come tuo strumento no quindi vedo proprio in eterico che come se lei visualizzasse un tipo di vibrazione quasi anche il colore e la densità e poi immaginasse come se fosse uno strumento e e poi lo come se lanciasse questa vibrazione per per creare quello che le vuole per sé ok quindi proprio come se ogni tipo di vibrazione avesse un nome per lei un nome un colore e poi gli può dare la forma che vuole e qua diciamo nella matrix la cosa concreta la deve fare insieme al figlio quindi deve agire uno e l'altro deve agire di conseguenza se se si ferma uno deve agire l'altro si devono proprio dare questo questo input e questo ritmo ok quindi poi ognuno nel senso ognuno agisce per quello che le interessa però si devono muovere ma che adesso stiamo dicendo che devono vivere insieme che devono il figlio una vita non andare avanti no no certo ma proprio il movimento esatto si cercherà la sua compagna farà quello che vuole insomma nuova frequenza 870 miliardi quella del figlio 530 percentuali di consapevolezza madre e poi figlio 203 la madre 157 il figlio psp e madre e figlio 87 è uguale hai già 87 e tantissimo per questo momento perché dice sono ancora lì stanno cervello anche che cervello 11 9 e 11 8 vite precedenti 926 meno di un terzo e lui 426 io non ricordo le sue ma secondo me sono diminuita anche le sue può essere si sta facendo di sì ok come la vedi ripeto ancora abbracciati sono sollevati da terra mi vedo le loro due sagome abbracciati e tutto intorno la ps esso sono sollevati da terra molto molto bene abbiamo iniziato con una romina incasinata piena di paure con le mani al alla bocca al mento e abbiamo finito con due fiamme real vampires grazie a voi al paese che ci siete serviti per fare questa bella cosa tu sei pronta a tornare le navi ok grazie di esistere dice romina e disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo grazie a tutti